Allora ai nostri microfoni anche il sindaco Alessandro Ciccarelli, ieri ha ricevuto la squadra in comune per celebrare la vittoria di Coppa Toscana e questi ragazzi hanno vinto anche quest'oggi allungando ancora sulla seconda classifica. Indubbiamente era un riconoscimento che sentivamo quasi il dovere di dover dare per il titolo ovviamente che hanno conquistato ma anche come coronamento di una storia che credo sia veramente una bella storia di sport, quella dell'FC Ponsacco 1920. Una striscia di imbattibilità che dura addirittura dalla fondazione, una comunità, quella Ponzacchina che è molto attenta al calcio e che ha ritrovato quindi una squadra, una voglia di rivenire allo stadio, un elemento quindi anche di socializzazione molto forte all'interno della comunità stessa e poi non ci scordiamo che in virtù dei record e dei titoli che la squadra sta conquistando la stessa città sta ottenendo un ritorno d'immagine molto forte quindi un segnale molto importante anche da un punto di vista proprio di comunicazione e di marketing della stessa piazza. Quindi credo fosse doveroso fare questo come amministrazione ma proprio anche in rappresentanza della città. Ovviamente è anche uno sprone per andare avanti, per non ritenersi appagati perché credo che poi sia fondamentale appunto portare in fondo nel migliore dei modi una stagione che promette bene. Ecco ora faccio una domanda che molti tifosi fanno insistentemente, i tifosi sognano un po' già in grande, si sentono già con un passo in Serie D e dicano eventualmente riusciamo a fare anche l'impresa, la programmazione di vincere anche un campionato in Serie D come facciamo a giocare la Serie C in uno stadio come questo? Quindi la domanda sarebbe a che punto sono i progetti per il nuovo stadio che a questo punto diventa quasi obbligatorio per una società in questa maniera. Certo, premesso che ovviamente da un punto di vista scaramantico è bene fare un passo alla volta e comunque la Serie D è già nelle nostre condizioni e anche dal punto di vista degli impianti. Noi ovviamente stiamo lavorando come amministrazione per dare corpo alla zona sportiva dei Puggini la cui area è sostanzialmente già nella disponibilità dell'amministrazione. Ovviamente non potendo più i comuni intervenire e investire direttamente per tutta una serie di problemi e di questioni che vengono poste purtroppo dall'alto e dal governo e abbiamo ovviamente lanciato idee e soluzioni legate al partenariato fra pubblico e privato. Quindi quel progetto che abbiamo lanciato e al quale cercheremo comunque di dare continuità risolvendo le questioni procedurali resta ovviamente la soluzione ideale, credo la più ottimale e quindi ovviamente ci sarà un po' un problema di tempi questo è abbastanza evidente, però c'è questa disponibilità di collaborazione pubblico e privato che io spero possa essere quella addirittura di arrivare alla cittadella dello sport e se no dovrà quantomeno porsi l'obiettivo almeno del trasferimento dell'impianto sportivo, del campo di calcio sapendo che con la società ci sono anche buone possibilità di costruire un sano rapporto pubblico e privato. Tra l'altro ricordo che l'esigenza riguarda lo sport, riguarda il calcio ma liberare quest'area centrale nella città credo che sia una grande opportunità per la città stessa questo è un bel polmone che potrebbe anche permettere di riqualificare il centro storico di Ponzacco per cui è un'idea progettuale molto importante ma che vale non solo per lo sport ma anche per la città e questo penso potrebbe anche favorire il consenso molto più ampio di chi è interessato allo sport. Ecco anche perché a Ponte d'Era sotto il profilo di impianti sportivi sono molto all'avanguardia anche se noi come spettatori li battiamo quindi possiamo finalmente dire che il progetto è addirittura di partenza. Se non ci fossero stati problemi di tipo procedurale legati purtroppo a un quadro normativo che non determiniamo noi è chiaro che oggi forse saremmo in grado di dirvi molto di più. Noi quel tipo di progetto legato alla valorizzazione del patrimonio pubblico l'abbiamo messo in campo e siamo fra i primi comuni in Italia a scommettere su questo percorso che comunque la legge stessa indica come un percorso prioritario del futuro. Purtroppo quando sei apripista devi anche scontare le difficoltà di tipo procedurale e normativo cerchiamo comunque di arrivare prima possibile ai chiarimenti necessari e utili e comunque sia evidente che ormai queste operazioni si fanno in un sano rapporto pubblico-privato ecco nel senso quindi questo è essenziale è ormai impossibile che un'amministrazione riesca a investire direttamente con spicco e risorse su livelli così alti quindi passa comunque attraverso questa strategia il comune comunque le aree le ha già a disposizione e questo è sicuramente un elemento di vantaggio quindi su questo bisogna costruire velocemente questa ipotesi di trasferimento dell'impianto sportivo che poi alla fine è sempre stato un elemento programmatico che tutti hanno sempre condiviso quindi se non altro non ci sono questioni o problemi legati a questo tipo di scelta a trasferire, a dove trasferire e a riquillificare l'area centrale Perfetto, ringraziamo il sindaco Alessandro Cicarelli per la lunga intervista che ci ha concesso Grazie a voi